Ragazzi riaccomo in questo nuovo vlog Allora, devo dirvi varie cose Veloci, random, lo gesticolo sempre però Prima di iniziare il video Ci tengo a salutare Davide Alessandro E chi c'era più? E Alfredo Davide, Alessandro e Alfredo I miei compagni di classe che mi hanno chiesto di essere salutati Allora, in questo vlog di che devo parlare? Devo parlarvi di un vecchio Ascolta se tipo cambio, ma tipo lì c'è troppa luce Qui non c'è, non lo so Zitti Allora In questo vlog devo parlarvi di cose che potrei ritenere banali Infatti in questo video tipo neanche lo monetizzo Non ci guadagno con questo video Per quanto è lo 0,001 centesimo che ci guadagno col video Neanche lo monetizzo Che tanto quelle 15 views che fa il video me le sbatto al cazzo Allora Prima cosa di tutto La questione degli hashtag Degli hashtag Allora Vi ripeto Vi riassumo che Se volete essere salutati in un video Inizio video Dovete lasciare nei commenti Dovete lasciare nei commenti Hashtag Saluto E io vi saluterò nel video Poi Nei video della Tech Hit Se scrivete Hashtag Hashtag Sfida Nei video della Tech Hit Farò una sfida Nei video della Tech Hit Se mi fate un hashtag Sfida Nei video della Survive Io farò una sfida Della Survive Per esempio Mi hanno fatto Una sfida Un obiettivo Di fare la forma automatica di legno E l'ho fatta Poi Che ce l'ho da dirvi più La questione Innanzitutto Vi ringrazio per tutti i mi piace Che mettete sotto i video Commenti Grazie Inoltre Vi dovevo dire Due cose Veloci Riguardanti Facebook E Google Plus Allora Facebook Io come sapete In ogni video ve lo ricordo Una pagina Facebook E se lasciate mi piace A quella pagina di Facebook Quando io per esempio Appena pubblico un video Lo condivido Stantaneamente Sulla pagina di Facebook E se i feed di Youtube Che non vi arrivano Io tipo sono iscritto A 90 canali diversi Sennò mi arriva Un feed a settimana Di un canale random Adesso Me li devo andare a Cliccare A cercare ogni canale Perché non mi arrivano i feed Quindi Se non vi arrivano i feed Che non vi arrivano Sicur Ci scommetto tutto A parte se non avete L'app di Google Chrome Ma quelle sono altre cose Quella ancora non ce l'ho Vi invito a lasciare Mi piace sulla pagina di Facebook Non perché mi interessa Avere mi piace Alla pagina di Facebook Perché c'è 100 mi piace Quella pagina Ma se non fa 3 like a post Massimo E un commento Però Ci sono 3 persone Che si vedono il video Da Facebook Appunto perché L'ho condiviso Su Facebook Scusate se non guardo L'obiettivo Ma non mi viene spontaneo Ancora guardare Quel buchino Per una volta Vi ringrazio Per tutti i like Che metti Che penso Metti ad Alla pagina di Facebook Poi Google Plus Io ovviamente Ho il profilo Google Plus Quindi se Mi aggiungete Ad una cerchia Di Google Plus Se io pubblico Un video Non pubblico Se io condivido Se io faccio qualcosa Su Google Plus Posto una foto Uno stato Condivido un video Quello che faccio sempre Vai in automatico Se clicco Metto la spunta Google Plus Quando carico il video Me lo condivide E istantaneamente Vi arriva La notifica Se siete tipo Su Google O se siete Sul telefonino Avete l'app di Google Plus Che arrivi in automatico La notifica Mentre se siete Tipo da PC Su Google Vi in alto a destra C'è tipo Quel camparellino Che è tipo E compare un'icona Tipo la notifica Di Facebook Cliccate E c'è la notifica Che ho pubblicato Un video Quindi cliccate E vi vedete Il video A posto Quindi Spero di avervi detto Tutto Ah si no Un'ultima cosa Allora Di serie principali Sul canale Quindi abbiamo La Survival Che Se Continuo Ma non penso La Survival Che non penso E non penso Continuerò La Skyblock Se la farò La rinizierò Da capo Da solo Probabilmente La Survival Che alternerò Probabilmente Alla Alla Skyblock Poi abbiamo La Techit Che è la serie Quindi Moddata Tecnica E Qualche vlog Ogni tanto E qualche video Random Su qualche altro Gioco Forse Inizierò Happy Wheels Non lo so Una cosa Che Probabilmente Dovrei Iniziare Una serie Su Delle custom Up Con alcuni Amici Amici Mie Con alcuni Amici miei Dei vari TS Nei quali giro Sono Raffi E Bobby Sì Comunque Quindi Spero che questo Vi sia piaciuto Date così Lasciate un like Un commento Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti